Salve a tutti amici youtube, sono Masterbeat e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio portare qualcosa di nuovo, qualcosa di veramente figo, qualcosa che tanti player stavano aspettando da tantissimo tempo, Elder God Noden, allora per chi non sapesse cosa sto dicendo, io sto parlando di un mostro fusione acqua livello 4, quindi è un mostro che è portabile di instant, noi lo possiamo fare special di instant, quando viene evocato porta special livello 4 nel cimitero con effetti negati, voi direte ma che cos'è questa carta cioè non è che sia chissà che, e invece ragazzi questa carta permette di fare tantissimi e dico tantissimi FTK in vari mazzi, rispolvera vari mazzi tipo Infernity, può far partire di combo diversa anche in Eclos, volendo, perché c'è una combo con l'Araldino, ma tanti mazzi ne possono usufruire, possono usufruire Satellite, Shadow, è un mostro istantaneo Noden, instant, Noden, porti mostro dal Grave, it is, istantaneo, è anche ACU quindi pompa dweller volendo, vi chiedo scusa se faccio due video attaccati prima del Profile del Necrosis questo è che la notizia è uscita da poco e quindi ho voluto tenervi subito informati Noden uscirà da queste team, da queste team che usciranno credo ad agosto settembre in queste team possiamo trovare veramente tantissima roba, nella team di Noden troviamo anche il Majest Fiend, carta che è fortissima, è una carta fortissima secret, uscirà super e inoltre potremmo trovare lo Dice, un'altra carta che comunque nel pendolo non ci sta male chi lo scusa sa anche questo raffreddore di merda che sono malato nell'altra team possiamo trovare un altro Noden, Elder Harron si chiama credo, non vuole dire una colata, poi troviamo Dark Rebellion e Castle, finora le carte che sappiamo sono queste ma la carta più importante era Noden, finalmente l'hanno portato in TCC e finalmente noi possiamo giocarlo finalmente un'esclusiva OCG, era una carta che si pensava no in TGG non uscirà mai, non verrà mai una carta così invece mamma Konami ci ha fatto questo regalo, quindi secondo me è veramente da ringraziare la Konami che ci ha dato questa carta troppo forte, però come al solito usciranno un sacco di mazzi che sfrutteranno questa carta anche in 2-3x, pazienza che devo dire allora il video si chiude qui, è un video molto veloce di questa notizia noi ci vediamo alla prossima, lasciate un like, passate anche dalla pagina Facebook e iscrivetevi al canale, da Masterbit un saluto bella ciao 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 ciao